la collana contiene 25 titoli però la nostra idea iniziale era molto più ampia e ambiziosa quindi noi sappiamo di non essere esaustivi quindi è soltanto un invito alla lettura ci sono moltissimi grandi autori anche classici del novecento che mancano noi speriamo che la collana vada così bene da poter aggiungere una seconda serie qualche altro autore abbiamo voluto però partire dai grandi classici dell'otto e soprattutto del novecento e aggiungere un paio di autori viventi che sono autori internazionali e sono due autori che vivono negli stati uniti uno è ocean guong che è originario del vietnam e l'altro jericho brown che è un afro americano il messaggio è la poesia è nella storia ma è anche quella che si fa adesso che affronta problemi di adesso contemporanei io non ho mai smesso di venire in cattolica continuo a venire ogni anno a studiare frequento la biblioteca quindi più che ricordi è qualche cosa di vivo dentro di me io mi considero sempre veramente un alunno di questa università e ho imparato moltissimo da quegli anni li ricordo con grande affetto qualche volta mi illudo che non siano passati così tanti anni e anche poi l'essere diventato docente in un altro ateneo io lo devo alla formazione che ho avuto qui quindi ricordo con grande dedizione con grande affetto il mio maestro giuseppe frasso in particolare e gli altri professori che ho avuto qui come maestri che mi hanno insegnato il metodo di studio il metodo di lavoro quindi per me è un ritorno particolarmente gradito il mio maestro giuseppe frasso mi ha insegnato la puntualità lo stare sul testo è stato un maestro di filologia e questo è un bagaglio che io mi sono portato dietro e però d'altra parte sono stati anni giovanile quindi anni pieni di passione e quindi ho un po contaminato gli insegnamenti dei miei maestri con quello che mi interessava ad esempio già allora la poesia contemporanea io la leggevo ricordo che mentre ero in cattolica scrissi la prima volta a mario luzzi lo andai a trovare a firenze la cosa che ricordo con grande piacere è l'ambiente del collegio augustiniano ma perché io ho trascorso lì i miei anni di formazione e c'era questo gruppo di amici molto variegato perché ovviamente eravamo studenti di varie di varie facoltà e c'era un gruppo di grande unità e mi ricordo per esempio l'assistente spirituale e questo stare davanti perché noi arrivamo proprio quando venne ristrutturato il nuovo augustiniano in questo stare davanti all'università ci ha permesso di viverla con una pienezza straordinaria lo consiglio a tutti